Buongiorno a tutti, io sono il professor Sandro Giannini, sono un internista, lavoro presso la clinica medica prima di questa azienda ospedale Università di Padova e per conto di quest'ultima io sono il rappresentante della BondEarn. La BondEarn è il network europeo che si occupa di malattie rare dello scheletro, essenzialmente di malattie che inducono fragilità ossea, che provocano displasia del tessuto osseo, alterazioni anche di carattere anatomico, che hanno come conseguenza per solito delle gravi deformità dello scheletro, bassa statura e un rischio molto consistente di incorrere in fragilità del tessuto osseo e quindi in fratture anche per traumi minimi. La nostra ERN si occupa di individuare i pazienti con malattie rare che fanno parte di questo gruppo di condizioni patologiche e devo dire che ha una grossa esperienza già accumulata negli anni, che collabora in modo attivo a livello dell'azienda stessa di Padova con molti altri nuclei che si occupano in temi identici ed è in grado di fornire un processo di carattere diagnostico e terapeutico che possa in realtà dare sollievo ai pazienti stessi. La nostra ERN, la BondEarn è anche in continuo contatto e scambio professionale a livello europeo con molti dei centri più importanti che esistono in Europa. In Europa ci sono moltissimi centri di uguale importanza con i quali è possibile entrare in contatto per incrementare le possibilità diagnostiche e terapeutiche. Il messaggio quindi è se qualcuno sospetta di avere una patologia di questo genere o ha un familiare o un grado in possibilità di essere affetto da condizioni di questa natura, noi siamo disponibili e accogliamo volentieri tutti per cercare di dare salute a chi francamente lo merita e grazie per l'ascolto.